Il burattinaio mangia fuoco, questo era il suo nome, pareva un uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella sua barba nera nera che gli copriva tutto il petto e tutte le gambe, ma nel fondo poi non era un cattivo uomo, prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio che si dibatteva e per ogni verso urlava, non voglio morire, non voglio morire, principiò subito a commuoversi e impietosirsi e dopo aver resistito un bel pezzo alla fine non ne poteò più e si lasciò andare a un sonorissimo sternuto. A quello sternuto, Arlecchino, che fino ad allora era stato afflitto e ripiegato come un salcio piangente, si fece tutto allegro in viso e, chinatosi verso Pinocchio, gli bisbigliò sottovoce. «Buone nuove, fratello! Il burattinaio ha sternutito e questo è un segno che si è mosso a compassione per te. Ormai sei vivo!» Perché bisogna sapere che, mentre tutti gli uomini, quando si sentono impietositi per qualcuno o piangono, o perlomeno fanno finta di rasciugarsi gli occhi, mangia fuoco e poi, invece, ogni volta che si inteneriva il cuore, aveva il vizio di sternutire. Era un modo come un altro per dare a conoscere agli altri la sensibilità del suo cuore. Dopo aver sternutito, il burattinaio, seguitando a fare il burbero, gridò a Pinocchio. «Finiscila di piangere! I tuoi lamenti mi hanno messo un uggiole in fondo allo stomaco. Sento uno spasmo che quasi quasi...» e fece altri due sternuti. «Felicità!» disse Pinocchio. «Grazie! E il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi?» domandò, mangia fuoco. «Il babbo sì, la mamma, però, non l'ho mai conosciuta.» «Chissà che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre, se ora ti facessi gettare fra due carboni ardenti!» «Ah, povero vecchio! Lo compatisco!» «Achiu!» 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 e fece altri tre sternuti. «Felicità!» gridò Pinocchio. «Grazie! Del resto bisogna compatire anche me, perché, come vedi, non ho più legna per finire e per cuocere il mio montone arrostito, e tu, e dico la verità, in questo caso mi avresti fatto molto comodo! Ma ormai mi sono impietosito, e ci vuol pazienza. Invece di te, brucerò sotto le spiede qualche burattino della mia compagnia. «Ola, gendarmi!» A questo comando comparverò subito due gendarmi di legno, lunghi, secchi, secchi, e col cappello a lucerne in testa e con la sciabola sfoderata in mano. Allora il burattinaio disse loro, con voce rantolosa, «Pigliatemi lì quell'arlecchino, legatelo bene, e poi gettatelo a bruciare sul fuoco! Voglio che il mio montone sia arrostito bene!» Figuratevi il povero arlecchino. Fu tanto il suo spavento che le gambe si rimpiegarano e caddero bocconi per terra. Pinocchio, alla vista di questo spettacolo straziante, andò a gettarsi ai piedi del burattinaio e, piangendo, piangendo a dirotto e bagnandogli le lacrime e tutti i peli della sua lunghissima barba, cominciò a dire con voce supplichevole. «Pietà, pietà, signor Mangiafuoco!» «Qui non ci sono signori!» esplicò duramente Mangiafuoco. «Pietà, signor Cavaliere!» «Qui non ci sono cavalieri!» «Pietà, signor signori!» A sentirsi chiamare eccellenza, il burattinaio fece subito il bocchino tondo e diventò tutto un tratto più umano, più trattabile. Guardò Pinocchio e gli disse «Ebbene, cos'altro vuoi da me?» «Vi domando la grazia per il povero arlecchino!» «Qui non c'è grazia che tenga! Se ho risparmiato te, bisogna che faccia morire sul fuoco lui, perché io voglio che il mio montone sia arrostito bene!» «In questo caso!» gridò finamente Pinocchio, rizzandosi e gettando via il suo berretto di midolla di pane. «In questo caso conosco qual è il mio vero destino! Avanti, signore! Giandarmi, tutti insieme! Legatemi e gettatemi nel fuoco, in quelle fiamme! No, non è giusto che il mio povero arlecchino, il mio unico vero amico debba morire per me!» Queste parole pronunziate con voce alta e con accento eroico fecero piangere tutti i burattinai che erano presenti a questa scena. Gli stessi giandarmi sarebbero... fossero di legno piangevano anche loro come due agnellini da latte. Mangia fuoco, sul principio, rimase duro e immobile come un pezzo di ghiaccio, ma poi, ad agio ad agio, cominciò anche lui a commuoversi e a starnutire. E fatti altri quattro o cinque starnuti, aprì affettuosamente le braccia e disse a Pinocchio «Tu sei un bravo ragazzo! Vieni qui da me e dammi un bacio!» Pinocchio corse subito e, arrampicandoci come uno scoiattolo su per la barba del burattino, andò a posare un bellissimo bacio sulla punta del naso. «Dunque la grazia è fatta?» domandò il povero arlecchino, con un fil di voce che si sentiva appena. «La grazia è fatta!» rispose Mangiafuoco, poi soggiunse sospirando e trattenendo il capo «Pazienza! Per questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo, ma un'altra volta guai a chi toccherà!» A questa notizia, a questa grande grazia ottenuta, i burattinai e i burattini corsero tutti sul palcoscenico e, accesi i lumi e i lampadari, come in una serata di gala, cominciarono a saltare e a ballare. Era l'alba e ballavano sempre.